qui è stato girato un film di cui non ricordo il regista ma che a breve vedremo sui grandi schermi grandi schermi e c'era sulla spiaggia c'era montato un palco dove suonavano c'era musica dal vivo e si chiamava crack questo ipotetico locale del film ok loro niente si sono tenuti l'insegna il signore invece è un forestiero quindi non vive qui però si mi son foresto mi venderio buongiorno amici siamo qui vedete questo bello calino si chiama buongiorno buongiorno questo localino si chiama crack e siamo sul terreno di san giorgio il di san giorgio l'ama di san giorgio benissimo che è possibile affittare i pedalo e magari giuseppe ce lo spiega meglio che cosa accade dopo le 17 dopo le 17 si può andare a polipi con la pulparola e 7 euro all'ora per divertimento dopo le 17 come stavamo dicendo prima si può andare a polipi 10 euro tutta la giornata quindi per chi vuole fare questa esperienza magari non ha mai visto i polipi può approfittare con il pedalò farsi la sua passeggiatina unire l'utile al dilettevole se trova il polpo bene bene altrimenti se no ti diverti comunque ciao siamo di nuovo qui con il nostro super giuseppe grazie associazione sanicola barretto crack e chi dirvi venitevi a divertire perché giuseppe è sempre disponibile anzi grazie per oggi altrettanto 24 su 24 si praticamente ragazzi specialmente i giovani perché immagino i pedalo si si interessano vabbè noi non è che siamo vecchi però no non perdite no noi ci divertiamo anche di più esatto ci divertiamo anche di più però per i giovani magari il pedalo la mattina quindi si è sempre disponibile ragazzi per far divertire venite per divertire c'è della buona musica fa gli eventi mette la musica alla sera Avvicinatevi perché il mare è quello che è Quindi divertimento assicurato Evviva l'Associazione San Nicola Evviva Giuseppe Grazie Baccetto